E voltiamo pagina e parliamo di un libro bellissimo che arriva dritto al cuore, sì perché è uscita da poco tempo e ha già riscosso veramente un grande successo l'opera Comunque Mamma, storia di una ferita ancora aperta. E ne parliamo stamattina proprio in compagnia della nostra ospite, quindi è veramente un piacere per noi avere con noi la scrittrice e attrice Antonella Ferrari, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Come stai Antonella? Bene, bene, sono felice che questo libro stia piacendo, che le persone lo stiano leggendo, mi stanno scrivendo tantissime persone, tante non mamme come me. Ecco, Comunque Mamma, storia di una ferita ancora aperta, edito da HarperCollins Italia, è un libro che veramente si legge tutto di un fiato, in cui tu racconti un dolore per una maternità mancata e le difficoltà poi per l'adozione. Cosa ti ha spinto quindi a mettere su carta la tua storia? Ma guarda, io ho scritto già un libro undici anni fa che racconta proprio la mia battaglia alla sclerosi multipla. Visto che questo libro è andato molto bene ed è stato in qualche modo terapeutico per me, ho deciso di scrivere un altro libro su un'altra parte della mia vita che ancora non ho metabolizzato. E quindi ho la speranza che aver scritto questo libro mi aiuti a far pace con questa parte dolorosa della mia vita, perché ti devo dire la verità, ci diamo del tu se sei d'accordo. Certo, assolutamente. Ti devo dire la verità, la non maternità non l'ho ancora digerita, ancora infatti sottotitolo è storia di una ferita ancora aperta, proprio perché ancora io soffro per questa cosa. Io e mio marito abbiamo provato per tanto tempo ad avere un figlio, non c'entra la malattia, con la sclerosi multipla puoi tranquillamente avere un figlio. Quindi sono due cose separate. Sì, sì, un figlio può arrivare tranquillamente. Conosco tante mamme con la sclerosi multipla. Io purtroppo non sono riuscita a rimanere incinta, probabilmente il disegno di Dio era altro per me. E così, come dicevi prima tu in apertura, abbiamo provato innanzitutto a chiedere ai medici di fare la secondazione assistita, ma per me qualche anno fa era improponibile. Cioè con la mia malattia non potevo farla, mentre oggi si può fare. E poi abbiamo provato anche ad adottare. Ma abbiamo scoperto che una persona con sclerosi multipla non danno un figlio in adozione, proprio perché io ho la sclerosi multipla, quindi un'ingiustizia che volevo mettere nero su bianco in questo libro per far sì che le persone lo sapessero perché non se ne parla abbastanza. Ecco Antonella, come tu hai ben detto, nell'opera tu racconti di come essendo tu affetta quindi da sclerosi multipla ti ritrovi praticamente sbarrate le porte anche per diventare madre, quindi attraverso l'adozione. Che cosa ti ha aiutato quindi ad andare avanti e a non arrenderti? Guarda, sicuramente mi ha aiutato la fede, mi ha aiutato l'appoggio sempre e costante di mio marito Roberto, mi ha aiutato l'amore che ho per la vita. Devo dirti, non è stato facile, perché tuttora è una ferita che ancora sanguina. Io devo ancora trovare il modo di far pace con questa parte dolorosa della mia vita, devo ancora accettare la non maternità, però come mi ha detto un giorno un mio parroco e lo dico nel libro, lui mi ha detto tu sei madre comunque, tu sei madre dei tuoi spettacoli, sei madre dei tuoi libri, sei madre dei tuoi progetti. In qualche modo hai generato anche tu, quindi io mi sento anche e comunque mamma. E poi chi ha un animale lo può capire, io ho Grisù, che è il mio cagnolino, il mio bambino peloso che potrete vedere qua, che ogni tanto passa da una parte all'altra. Ecco, lui in qualche modo è mio figlio. Certo, tra l'altro hai deciso di scrivere questo libro durante la pandemia, un periodo sicuramente difficile per tutti che ha acuito anche determinate situazioni di solitudine, sensazioni insomma che abbiamo provato un po' tutti. Ti ha aiutato la scrittura di questo libro? Sì, mi ha aiutato veramente. Spero che anche leggerlo per molte altre non mamme come me sia utile e magari ricevere i loro feedback mi aiuterà ancora di più a mettere un cerotto a questa ferita che sanguina. Tu tra l'altro sei una di quelle artiste, possiamo dire, possiamo definire artiste manifesto, che hanno affrontato con coraggio la propria malattia per trasformarla. È una vera e propria battaglia per i diritti, per le pari opportunità. indimenticabile è anche il tuo potente monologo al Festival di Saremo 2021. Che ricordi hai di quel momento? Ricordi bellissimi. Guarda, quando mi ha chiamata Amadeus per propormi di partecipare al Festival, credevo di cadere dalla sedia. Sono stata entusiasta perché era un sogno che avevo fin da bambina e soprattutto andare su quel palco e fare quello che so fare meglio, ovvero recitare, recitare un pezzo del mio spettacolo teatrale più forte del destino, è stato per me importante perché non ero lì come Antonella Ferrari malata di sclerosi multiple, ero lì come Antonella Ferrari attrice. E questo è quello che ho chiesto a Amadeus. Io vengo a fatto che tu mi presenti come attrice e mi fai fare l'attrice. E così è stato. Bellissime esperienze, immagino. Bellissima, emozionante, indimenticabile. Comunque mamma è la storia di un sogno negato, ma sembra nella scrittura anche, permettimi, una sceneggiatura. Hai impensato in qualche modo mai di farne un film? Guarda, ne sto parlando proprio con alcune case di produzione. Il mio sogno è trasformare il primo libro, l'ho trasformato in uno spettacolo teatrale che ha girato l'Italia e lungo e largo per sei anni. E' venuto anche a Napoli. Mentre invece, comunque mamma, vorrei trasformarlo in un cortometraggio, in un film, comunque in un'opera cinematografica. Mi auguro di farcela. Per cui se c'è qualche casa di produzione interessata, noi siamo qui. Ecco, prima di salutarci, ricordiamo anche la presentazione del libro il prossimo venerdì 26 gennaio alla Mondadori di Roma, in Piazza Gola di Rienzo, tra l'altro con un moderatore, direi, veramente speciale, il mio amico Beppe Convertini. Assolutamente, infatti ho scelto lui, che anche per me è un amico, gli ho chiesto di dialogare con me su Comunque Mamma e venerdì alle 19, come hai detto tu, alla Mondadori in Piazza di Rienzo, saremo lì e vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questo cammino. E Antonella, veramente io ti ringrazio per essere stata stamattina in nostra compagnia, seppur in collegamento ovviamente, ricordiamo ancora una volta la tua opera, Comunque Mamma sarà di una ferita ancora aperta. In bocca al lupo per tutto. Grazie, ciao a tutti, grazie, venite alla presentazione. Grazie, piccolo break, a tra pochissimo con Mattina Live.